Sulla sirena un mattone per il tabellone del Palaverde, ultima opportunità per Ruzier, a bersaglio dal lontanissimo, Michi Ruzier per il nuovo vantaggio Vanoli, sulla sirena del terzo quarto. La risposta sassarese con Vitali sotto le gambe a imitare il fratello Luca per la schiacciata di Miro Bilan, effetti speciali alla Vitri Frigo Arena. Altro recupero di Stone, alle hop, in tie e vai, chiuso sopra il ferro, grazie all'assess del solito Thompson. E Picasa a valanga sin dalla palla due. La tripla stavolta due volte sul ferro, rimbalzo fessivo di Owens, poi Johnson Odom, alza per Johnson Owens! E' ovviamente preoccupata nel perimetro, la squadra di Brienza. La rimessa la farà Julian Stone, si smarca proprio Figlioli che prende la tripla, ne ha messa una incredibile carriera contro Milano! Quando giocava da Bellino ed è evidentemente abbonato a questo tipo di situazioni.